Bentornati su Pokémon Glazed, forse la mia pronuncia non è il topo ma ha un leggero raffreddore come potete intuire dalla mia voce Tra l'altro ho cercato la traduzione di Glazed, Glazy più o meno si dice così E vuol dire tipo, non so, lucidato, satinato, anche... non mi ricordo cosa vuol dire, ma vabbè Più o meno significato è questo Allora, l'ultima volta ce l'avamo fermati qua, al McShake Swamp Sì, ok E durante, diciamo, l'attesa Ho fatto allenamento per la squadra e ho trovato tra i vari Pokémon Perché tra l'altro vi devo mostrare il Pokédex, cosa che non ho fatto nell'ultimo episodio Che è il tipico di Smeraldo per dire quanto il gioco è lo stesso Però comunque, per esempio, Riolu è presente, anche se non mi ricordo dove Poi... beh, insomma, andiamo avanti, dai ci siamo capiti Ho preso quel Ralse perché Ralse è comunque un Pokémon mediamente raro Quindi magari... Cioè, sapete no com'è Ralse? Se tu lo vedi all'inizio di Smeraldo lo catturi Scappiamo tu se sei un allenatore, no? Ah, quanto valore repellente, mannaggia Che tra l'altro mi sono reso conto solo adesso che non c'è un Pokémon Market Ah, make sure not to step in Poison Ivy Poison Ivy, eh? Quella di Batman Ok, ci sono delle puzzanghere velenose, quindi... Che sono queste? Ok, una Pokéball Ehi Ah, il piccolo Eottero, che paura Tra l'altro Riolu è imparato... Imparato, sì, Riolu è imparato Focus Punch, che sarebbe Centripugno Che però appunto è una mossa abbastanza... Come dire, non dico pericolosa Però appunto necessita di un turno per... Ok, qua ci vuole taglio Necessita di un turno per prendere la mira E nel secondo colpisce Ma se tu vieni colpito mentre prendi la mira Perdi la mira E non fai un cazzo fondamentalmente Quindi... È una mossa... Davvero... Pericolosa, per certi versi Se va a segno, è devastante Ma se non va a segno, no Inoltre ho fatto dei miglioramenti tecnici Perché noi siamo avanti Per esempio, ho alzato un po' il volume di gioco Perché, secondo me... Cioè, si sentiva per quello, eh Nella vecchia registrazione Però non volevo... Come dire... Lasciare troppo silenzio Cioè, non è proprio silenzio il termine giusto Però comunque... Comunque... Era come se il... Quando, diciamo, facevo delle mezze piccole pause Nel parlare Non si c'era il nulla Per quanto ci fosse l'audio Oh, Scor... Scorpi Sperando di trovarlo In questa zona Sembra abbastanza adatta A un Pokémon come lui Poi... Che dirvi? Ah, giusto Ho preso delle cuffie nuove Quindi esiste la possibilità Che il mio microfono Sia migliore Cioè, la qualità audio del microfono Sia migliore Però... Non so quanto cambi Sinceramente Ci vorrebbe proprio un... Adesso che... Cioè, proprio adesso che... Oh, vedete che potente E niente Poi che dirvi ancora Ho sistemato qualche filtro Nell'emulatore Qui adesso si dovrebbe vedere Un pelo diverso Non so se è meglio o peggio Sotto è leggermente meglio Magari un po' più... Ah, sono... Che cazzo è successo? Allora, ok Ok, questa è una cazzo sim Se fosse un... Sì, cazzo sim Per modo di dire Allora, saluto a vero Sospettoso Ehm... Non c'è Non presagisce nulla di buono Ah, sì Voglio vedere un... Ok Vediamo il membro Dall'elite fuori in azione Ehm... Con chi ce l'aveva? Con me? No Aspetta Sì, perché gli ho detto Di andarsene con la coda Tra le gambe Hai notato To play games Di Pokémon lì? No, solo Ok Quello di chi era Il cattivo della situazione? Ok Sto cercando di capire Perché se tra di questo momento Ci metterai troppo Il Pokécom? Che diavolo è? Is a device of my sin Su device di invenzione Oh! Converte Le frasi dei Pokémon E le frasi umane Viceversa? No Questo è figo Text related with the Pokémon Display with this... Ok Quindi in blu Quello che ci dico di Pokémon Oh! Questo è interessante Le rovine sono fantastiche Perché sono qui Ovviamente io Interagisco con le rovine E esplodo il mondo Allora Cosa è successo? Sono Di nuovo Passato Un universo all'altro Diciamo Oh Siete se... Ecco Motion Ti ricordi di me? My name is Luke Eh? Sono quello che Ti ha ribottato Dietro l'altra volta Come ho predetto Tu sei in grado Di attraversare gli universi Sono di fretta Quindi non ho tempo Per spiegarti Trattarebbe di aiutarmi Dei cercare il Mudkip Ok da qualche parte Ma non posso trovarlo Se lo apprezzare Tu lo puoi portare indietro Ok Quindi Dei andare a prendere Ecco Oblete for God Ah ok Mi cura Bravo 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 Sì Ma chi ti ha detto Che io ti aiuterò? Ah Difficilissimo Prendere il Mudkip Ciao Ah Adesso fa la Alla Farfetch Se non sbaglio Eh Emo dove vai? Ah No Non mi prendi per il No Emo come faccio? Che devo andare Nell'erbetta Che c'è lì Max E Tremass Questo è buono Che qua ci sia qualcosa? No Mi chiede se io devo andare Nell'erba qua O Magari non è neanche previsto Uno spawn Dei Pokémon Eh Mi sa di no Perché teoricamente Te basta Girarti Su te stesso Per Trovare un Pokémon Ma così non è So Devo proprio Esplorare tutto qua A meno che lui sia tornato in Ah ecco infatti Here you are Oh livello 10 Buono Salviamo comunque che Se lo faccio fuori Non credo sia Succeda qualcosa di buono Eh infatti Cazzo Ehm Andiamo Rals Che magari con confusione Esatto E poi Andiamo a usarle Pokéball No Cazzo Mena Mena non poco eh Oh State dentro Porca No Mi prendi per il culo No 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 Qualcosa non va ragazzi O è scriptato Che io non posso Catturarlo E Può essere Benissimo Oppure Ehm È davvero difficile Catturarlo Ok che E i pochi di starter Hanno un tasso di cattura Leggermente più alto Del normale Però cavolo Su Più di 10 Tentati Praticamente Non sta dentro Che debba batterlo Per forza Proviamo No Sì Ci riprovo Ok Io ho fatto bene Perché è un mudkeep Mi Mi serve sicuro Perfetto Allora Quindi Ottimo lavoro Il portale Si è di nuovo aperto Però devi Muoverti Prima che si chiuda Scusa Sono tanto Per Spiegare Vai nel portale Ok Here I am Allora Qua non posso interagire Giusto No Perfetto Vediamo se Mi dite qualcosa Interessante No Vabbè Però mi parla Delle colonne Non credo Ci sia nulla Interessante Vabbè Di qua niente Bene Torniamo a casa Direi Tu Quelli che hanno I capelli blu Sembrano sempre Quelli più Interessanti Oddio Rars Ah Sono stato Avvenenato Ma cosa Dei funghi Quindi Perché ho toccato Il fungo O perché Stavo girando Qua così a caso Oddio Questa Non lo so Allora Quindi Devo scendere Di qua Ok Allora Si è esausto Andiamo a farci curare Il nostro Mud Keep Al dieci Non un pokemon Se ha Allora Azione Rugito Fungus Sberla E pistola Acqua Buono Mi chiedo Se i moveset Siano Diciamo Cambiati Come Gary All Wall Dieci Mi impara Centri Pugno Oppure Sono Quelli giusti Ok Io ora dove Devo andare Non devo andare Al laboratorio Quindi Devo andare Dove Bella domanda Lei non mi dice Niente Dove devo andare Adesso Oddio Non ho più Pall'idea Dobbiamo Provare ancora A parlare Con qualcuno Nel laboratorio Ma a dubbio Mi dicano qualcosa Allora No Niente Ok No Tu sei un ingegnere Ok Ah che bello Posso correre Negli edifici Ok Ti parli Una macchina Che hai inventato Si Tu No Sto parlando Della loro professione Basta Io Cosa Dove posso andare Andiamo indietro Proviamo Tentare la nuoce Il telo Che ho giustamente Già catturato Prima Murat Attacchi No Grazie Qua No C'è il professor Cosola No Aspetta Non mi interessa Come va il mio Pokérex E Quindi Boh Dove vado Provo andare a casa Vedo se mi dicono qualcosa Ma dubito Hello Hello ma'am Si sono fiero di te Bla 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 Ok di qua no Devo andare di qua Che ne abbiamo ancora esplorato Tra l'altro Vediamo Cosa c'è Di interessante Ma Vedendo la mappa C'era il mare Poco vicino a me Quindi Dubito Ok Probabilmente devo Ah What Ah non posso entrare Senza Il permesso Del Il Ah un santuario Ok Senza il permesso Del professore Willow Quindi Allora Quindi ho tornato Per forza indietro Per forza Senza che mi schianto Contro qualcosa Allora Boh Ne muovo di qua Perché Se non sbaglio Andiamo a vedere La mappa C'era Questo Non posso Aspetta Ok Ecco vedete Io devo andare a Ove Ove Oceanview City E quindi Devo passare per la Milkshake Swamp Ergo Ho sbagliato Voglio tornare indietro Perché sono un coglione Via 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 Tutti adesso Poi che mi sono Servatici Quattro cavolo Eh ho capito Ma Come Come faccio a uscire Dalla Milkshake Swamp Ah forse da là Non posso Se il mio occhio Si mi ha ingannato Cavolo Come si esce da qua Allora Ok Si è tutto avvelenato Forse da qua No ma No 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 Non No No qua non sono tipo Arrivato Infatti da qua sono come Arrivato Ah sono quelli I rovi Che mi avvelenano Praticamente E se non mi curo Forse la mia squadra Muore tutta adesso Dico bene Non sarebbe un grave problema Visto che comunque Non trovando Una via di uscita Prima o poi Se hai dovuto tornare Indietro Ehi ma Non facciamo scherzi No Questa non è una strada E qui Deve andare Vi faccio il mare Ok Io sono decisamente In crisi In sta parte Io direi di stoppare Finchè non cerco La via di uscita Anzi Finchè non trovo Bene Sembra che io abbia trovato La via finalmente Bastava andare a sinistra Giustamente Giustamente No aspetta No aspetta un attimo Credevo di aver trovato La via ma A quanto pare Non l'ho trovata Ah no Forse di qua Intuitivo come Bo Vabbè Ehi Sì 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 Io sono a un brutto posto E tu I want that Titan Ok Però mi serve taglio Tu Anche te Se va a vedere il lago Che non è un cantiere Lago per modo di dire Pozzanghe No dai Uh Oh Mi lo traduce proprio Al momento I love the same time With my trainer I'm a friend In great camp In the park Ok Si diverte passare il tempo Con questo diattrice Perché la porta Al Al parco Tutti i giorni Oh Ecco qua Un Un pokemon market Ok Prendiamo le pokeball Cazzo Oh Ho esaurito tutto Vabbè Di qua dove si va Ehm Dice di prendere Cioè Di rinfrescare i capelli Se quello che ho capito io Vabbè Non ha troppa importanza Bene Io direi che Uh La palestra Allora Io direi che Questa parte È praticamente Inutile È piena di mio piccolionare Finisce qui E nella prossima Esploriamo La città Quindi Ci vediamo Alla prossima parte Alla prossima parte Alla prossima parte Alla prossima parte Grazie a tutti.